Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovissimo video Oggi siamo qui nell'undicesimo episodio di Zio Senpak E... Inter Allora, ho messo la distanza un po' più lontana E guardate un po' che mi è uscito Mi è uscito Mi è uscito quel coso lì Mi sembra che da lì siamo venuti, eh, però Comunque mi è uscito questo Poi mi è uscito Mi è uscito Quel faro lì Mi raccomando, mi è uscito Quel faro lì Che adesso andiamo a visitare E la barca che già sappiamo Tutti mi avete detto di andare a visitare Vi ringrazio per aver commentato Quindi... Quindi avete visto tutto il video, eh Ah, bravi Bravi Remix della cassa Ok, bravi Bravi, 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 bravi Mi fa piacere che avete guardato il video Poi Poi Niente Arniamoci 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 Mi porto un paio di spade di diamante Telle frecce Adesso facciamo anche un arco Non è vero Perché non abbiamo Non abbiamo il filo No, non abbiamo Con la lana si può fare il filo Non lo so, eh Dico una cazzata No Allora, volevo vedere un po' quelle Siccome abbiamo anche la mod delle bike Cioè quelle Degli animali che possono essere cavalcati Voglio vedere cosa serve Per craftarli Ok, mi sta arrivando uno stannuto Ok Ok, scusate Allora Ah, eccoli qui Allora, per esempio Oh Ah, ma è facile C'è solo una sella Non è cagata, allora Allora, adesso la facciamo subito Allora Facciamo subito Una Saddle No, vediamo Sella Yeah, yeah La sella, yeah Oh, cazzo Che è quel cosa? Che è quella pelle strana? Ah, che filata l'apple Apple bucket Grafess Vabbè Come si fa quella pelle strana? Aspettate Poi Pelle Perché non mi esce la pelle? Aspettate Faccio prima Perché non mi esce la pelle? La pelle, però Figlio di Apollo Felice, no, no, scherzo Aspettate, guarda la pelle, però Aspettate La vedo io, dai Ah, vabbè, scherzo Perché ci vuole anche il filo Vabbè Uffa, però Che palle Vabbè Vabbè Lo faremo Lo faremo Andiamo Subito Togliamo qui E la prima tappa È lì Ok Tante Eh, però Vabbè Ormai siamo andati No, che siamo andati Allora Adesso vi spiego subito Dobbiamo fare prima un piccone Un piccone Una bella barca E non andiamo Molto più velocemente Se ce la faccio a salire Se non ce la faccio Non andiamo da nessuna parte Ah, poi nel prossimo episodio Aggiusteremo solo casa, dai Perché Che abbiamo detto piccone Perfetto E basta E poi la barca Ok Guardate la mia barca da pirata Ci entrano come minimo 50 persone Vedete vedere? Agia Ok, andiamo Ta-da-da-da Il cibo ce l'abbiamo Perfetto Spade Direi che siamo a posto Un bel picconazzo Se troviamo qualcosa di potente Ce l'abbiamo E guardate quanto è figo questo qua Anche se però Non so se è bucato Si vede scurissimo E infatti Lo sapevo che era bucato Oh Vai Fai scendere Grazie Ancora arriva? No E vabbè Presa? Si Va bene Oh Abbiamo anche la La clay E ce la prendiamo subito Può servire la clay Ok Questa no Questa è qualche trappola Già lo so Infatti io vorrei salire Lateralmente Qui c'è proprio Ah no Tartaruga C'è l'altra Ah eh però non abbiamo portato delle torce Vedi la stupidità umana Ah che bello Voilà Ok adesso Ok adesso Ok Ok fra poco succederà qualcosa Cosa ho detto io Per fortuna che non sono crepato Perché non sono crepato però Perché ho la roba Che culo Fottuti dungeon Che vogliono Uccidermi Tutti vogliono la mia testa Ehi ciao Quanto è brutta però questa moda eh Non mi piace tanto Turtolo ciao Ti mangia? Ciao turtole Tartule Turtole No Non fa un culo Andiamo Andiamo Di qua Andiamo Eh vabbè Oh le mele La mod nuova Che figata Ok andiamo subito A prenderle Eh dai però Oh quante cose Che ci sono in questa mod Sono una figata Questa mod Dite la verità Andiamo 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 però Ogni tanto si blocca Faccio una Non è nè vero Volevo mettere la distanza Oh la piramide Volevo mettere la distanza Più Più poca eh Eh mi conviene ragazzi Perché Mi lagga un pochito Anche le banane Oh yeah Aspettate Andiamo Normal Ok Oh Che cosa vedono i miei occhi Mere Ok Mere Oh Ah questo è un inizio di mela Sì infatti Lasciamoli stare Allora Guarda come porno Ve le va Ok aspettate Sta già tramontando il sole Devo andare subito a casa Perché con il sole Oh Lumaca Ciao Lumaca Crepa Lumaca Aha Guardate cosa c'è lì Troppo il cazzo Come faccio Come faccio Si sta facendo No Notte Che cazzo è successo Si sta facendo notte Ok Non ci serve Ciao banane Oh le banane Che figata Ragazzi E notte Ragazzi E notte Ragazzi E notte Ragazzi Non ho neanche le torce Ragazzi Vado a casa Vado a vedere Ah poi I lampi Un ragazzo Me l'ha detto Perché si è informato Mi ha detto Che seguendo i lampi Ci portava Dalle divinità Quindi Ringrazio Per avermelo detto E Mitico Ok Lo faremo Però non adesso Adesso devo andare A casa Perché ho paura Guarda come Corrano Ste galline Vediamo se possiamo Incontrare anche Un ragno Così ci prendiamo Del filo Però prima che loro Prenderanno Della carne Da me Altro che filo Mangiamo un po' di banana Buona la banana Tutti piacciono la banana Ok quella Ah che figata Ci sono i minerali fuori Ok Minerali gratis Senza andare sotto terra Perfetto Bene 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 Oh anche qui c'è un What the fuck Ho scritto mineral Vi sembra normale Ho scritto minerali Me la dati lì Va Vabbè Dopo corremo Tanto E' qui dietro Ho paura Però nello stesso tempo Voglio incontrare Un ragno Ragno Piccolo ragno No di notte Un ragno Normale Quante pecore Ciao pecorelle Cosa distrutta Nient'altro Eccoli il ragno Andiamo Andiamo Ah Questi sono forti Ahia Ora arriva un creeper da dietro Ahia Non muoio adesso Sì Sì che muoio Però no La cazzo di cane Pisi Mi è morto Te prego Non mi uccidere Ti darò tutto quello che vuoi Sì Ok Ciao creeper Guardate il filo Ma vai a fare in culo Vai Ma vai 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 Ma vai 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 Ok vado a casa Basta Quei cosi di notte Che sono Pericolosi Ciao creeper Cosa facevi Da me Oddio Vabbè Innocuo 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 Mi fai salire Grazie Ok Perfettamente Perfetto Sapevo che non ce la facevo Ok casa dolce casa Ho preso anche l'albero Che stava lì sopra Vi ricordate Che non serviva Quindi Ho rimasto anche aperto Efficiente Chiudi subito Ok E allora Allora Possiamo un po' di cose Tipo questa Non è Non ho due di diamanti Sì Può darsi Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ci voliamo Lo teniamo Le cazzate Le possiamo anche Dare A prestito Le possiamo anche dare Perfetto Vado a domine Ok Buongiorno a tutti Mi stanno seguendo I miei fan Dove stanno Ok Non mi seguono più Perfetto Allora Stavo andando La miniera Qui Oddio Che miniera Bene 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 Veremo qui Qualche giorno Certo che Veremo qui Però non si carica Questo cazzo di mondo Vai a fare in culo Vabbè non è che non si carica È che Avete capito Sì Anche io Tutto Perfetto Guardate questa montagna Che figata Ci sono i minerali fuori Qua sono tutte cazzate Vai In culo Prendiamo la mappa Vediamo se c'è qualcosa di interessante Villaggio dei goblin La andremo quattro volte Ragazzi Andiamo al villaggio dei goblin Che ci faranno il culo Sicuramente Poi andremo lì E poi finire il video Raga Perché Ce la sono circa 14 minuti 15 E non posso caricare Il video l'occhio Che nerdi Che nerd Ciao nerd Scimmia Scimmia Ciao scimmia Quanto sei brutta scimmia Dai però Non fare La cattiva Vieni qui Crepata Non mi ha dato niente Oh sì La monkey skin Fa Con queste si fanno No non si fanno Con queste Perché è rossa Ok goblin Che si picchiano Con le galline Ciao goblin Cosa vuoi da me Ok Vediamo se questa è la pelle No questa è la pelle Pelle normale Pelle normale Ciao goblin Ahia Uh carne marcia Da goblin E carne di goblin Grazie per questo Le galline Goblin più potenziato Ciao Ahia Ok Qui ci sono altri E così E così qui Finisce un altro episodio Quindi se volete vedere la sfida aperta con i goblin Anzi no Non lo dico più perché l'ultima volta che l'ho detto si è buggato Il capitale Che figata No questa però Ok quindi Se volete la sfida aperta con i goblin E Il pellegrinaggio Alla Torre Powa Al prossimo episodio Cliccate mi piace Commentate E Nada Al prossimo episodio Ciao a tutti